musica come vi chiamate? Davide Gabriele nome d'arte? D'arte Gab Qual è la vostra passione? Milky Way Come è iniziata la vostra passione? Con me è iniziata guardando dei video di ballerini su YouTube e me vedendo un ragazzo per strada di nome Pepito, David che mi è piaciuto e quindi ho cominciato a imparare questo ballo appunto da Milky Way Quali sono i vostri idoli? Per me i migliori ballerini di Milky Way sono Jack Errol e Spock Per me Spock e poi qui a Catania c'è un altro ballerino di livello molto alto che è davvero Fateci vedere cosa se pede fare Ok Repariamo a vedere cosa se pede fare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti